Scopriamo una cosa interessante, non c'è scritto non era la stagione dei fichi. Quando ho letto questa cosa veramente mi sono un po' arrabbiato, sappiamo tutti che la lepre è un roditore la Bibbia ha ragione e io ho sbagliato, è stato pazzesco ma alla fine la verità salta fuori. Allora a quel punto ho ringraziato Vittorio Messori lei ha ragione, ho sbagliato, in effetti la lepre andava messa in realtà fra i ruminanti, ma non era la stagione dei fichi Testo! 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 Un testo di zoologia, un testo, un testo, un testo, un testo, un testo, un testo, un testo di zoologia, c'era scritto, era letto, era sbagliato perché la parlo scelta, era una parloquina, come dice la Bibbia, ma non era l'attagione di qui. Testo! Non diceva il libro così, l'ho pensato io, come dice la Bibbia, la Bibbia dice...